La Regione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la determinazione che modifica il secondo provvedimento attuativo del programma straordinario di eradicazione della peste suina africana 2015-2017. Il documento firmato da Alessandro De Martini, responsabile dell'unità di progetto, interessa la zonizzazione e l'estensione degli allevamenti confinati in semibrado, il nuovo iter per la regolarizzazione degli allevamenti illegali e controlli ufficiali in ristoranti e aziende turistiche e in occasione di sagre. Esistono due tipologie di allevamento in semibrado, sottolinea la Regione, una per le zone rosse infette dalla peste suina e l'altra per le zone bianche immuni dal virus. Nel primo caso la detenzione suina all'aperto in spazi confinati non deve superare la superficie massima di 10 ettari, sottolinea la nota della Regione. Nelle zone bianche invece l'estensione degli allevamenti non devono superare i 40 ettari e riguardano i territori dei comuni compresi nelle fasce a rischio. La separazione tra gli allevamenti e l'esterno deve essere garantita attraverso ricinti o altri manufatti alti almeno 1 metro e 50 centimetri. Talle strutture non devono essere accessibili da parte di altri suini ma anche di cinghiali. La fascia di rischio 5, la più pericolosa, riguarda sei comuni tra Nurese e Ogliastra, Arzana, Desulo, Orgosolo, Seu, Italana e Villagrande. Gli allevatori che vogliono mettersi in regola invece devono recarsi presso gli sportelli di Laore e presentare la pratica per l'avvio dell'attività di allevamento dei suini al suo app e del proprio comune. La sanzione è stata ridotta da 10.000 a circa 430 euro. I servizi veterinari inoltre potranno sottoporre a controllo ufficiale i ristoranti e le aziende agrituristiche con cadenza annuale. In vista delle prossime festività natalizie, l'unità di progetto invita tutti i cittadini a prestare la massima attenzione all'acquistare e consumare le carne suine. 10 giorni fa 9 cinghiali abbattuti in agro di Orgosolo sono risultati positivi alla trichinella.